Ancoggi? Ancoggi nei piedi. Preparazione ciaspole, partenza casetta fuledrari per le nevaine. Perché se ne hanno 12 paia, mi hanno detto a noi. E cosa ne fanno a giocare? Ecco il mitico Marco Fandorfini. Riccardo a lontananza. I Barbani e il Franco Corrado. Ecco il gruppo alpinistico a casetta fuledrari. Si vede i Pandorfini che conduce. C'è un uomo solo al comando. E' in fuga. E' una maglia della Bianchi. E' Fausto Coppi. Ecco chi era. E' un uomo solo al comando. E' un uomo solo al comando. E' un uomo solo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.